Il Centro Storico di Sassano da ieri dispone di un nuovo spazio dove poter creare arte. Ieri mattina, presso Palazzo Babbino, l'amministrazione comunale e i cittadini si sono ritrovati per l'inaugurazione del nuovo e modernato anfiteatro Terra Mia, dedicato a due grandi personaggi della cultura e dell'arte di Sassano, il professore Pasquale Petrizzo e il professore Michele Delisa. La cerimonia di inaugurazione con la successiva benedizione da parte di Don Otello Russo della nuova area Spettacoli è stata anche occasione per ricordare le due figure che sono esempio per la comunità a cui hanno tramandato la voglia di arte e di cultura. Dopo il taglio del nastro, il sindaco Pellegrino ha spiegato che hanno voluto dare il nome all'anfiteatro Terra Mia per tramandare alle giovani generazioni l'amore per la propria terra d'origine e l'impegno a proteggerla e ad investire su di essa. Significativo poi il murales che sovrasta l'anfiteatro in cui sono raffigurati Pasquale Petrizzo e Michele Delisa con al centro Sassano. Palazzo Babbino, centro culturale di Sassano, si arricchisce quindi di un nuovo spazio che già dalla prossima primavera sarà animato da spettacoli ed eventi culturali. Siamo molto orgogliosi di questo lavoro perché nel cuore del centro storico oggi realizzare un anfiteatro completo migliorandolo ma soprattutto facendolo diventare un vero e proprio anfiteatro in un luogo suggestivo perché qui Palazzo Babbino in un contesto particolare, in un contesto di grande pregio anche ambientale oltre che paesaggistico, siamo veramente molto orgogliosi perché la musica, Sassano lo ricordiamo, è la città della musica perché la cultura, qui abbiamo istituito, è stato il nostro primo atto come amministrazione dieci anni fa di istituire la biblioteca comunale perché una comunità senza biblioteca, una comunità senza il punto di riferimento culturale più importante e il punto di riferimento più importante per i nostri ragazzi, per i nostri figli e oggi si completa effettivamente un percorso significativo con l'anfiteatro e proprio qui Sassano, cuore del centro storico, musica, teatro, arte, cultura, potranno avere una propria casa. Noi continueremo perché qui Palazzo Babbino realizzeremo anche il primo museo virtuale delle orchidee perché ovviamente nel paese delle orchidee non può non esserci un museo delle orchidee quindi creeremo un vero e proprio polo artistico-culturale che diventerà anche attrattore per un turismo del territorio dell'intero Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Anelburni.